buongiorno ragazzi questa è una poesia che faccio ad una musica ispiratrice un ipotetico addio un ipotetico addio forse addio arrivederci allora vediamo un po poesia addio addio ok ok qui non ci sentiremo più no e se ci incontriamo per strada che abbiamo una strada e se è una strada chiusa allora ci salutiamo e come ci salutiamo con un ciao e basta e basta ok ok e se mi ammalo lo volete sapere certo però non possiamo sentirci come te lo dico non lo scrivi quindi possiamo scriverci solo siamo in punto di morte ok ok allora adesso vado no aspetta e se mi succede qualcosa di bello quanto bello 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 lo vorrei sapere ti scrivo no telefona quindi possiamo sentirci per telefono so se capita una cosa bella bella come come vincere un premio nobel o come prendere 30 un esame tutte e due ok ok non prenderai mai 30 un esame lo so e tu non vincerai mai un premio nobel non lo so quindi posso chiamarti anche se c'era semplicemente il sole è una meravigliosa giornata d'estate si ok addio allora addio 20 minuti dopo pronto pronto c'è il sole è una meravigliosa giornata d'estate chiamavo giusto per dirtelo grazie comunque passo da te domani pomeriggio per domani pomeriggio perché nel caso domani piova e tu non possa chiamarmi questo è una poesia ragazzi ma non mi è piaciuta